Ci troviamo a Taranto, precisamente in zona Taranto 2, via Lago di Pergusa. Siamo alla fermata dell'autobus, qui infatti passa la linea 8. Vogliamo rappresentarvi lo stato di degrado e di assoluta mancanza di sicurezza in cui si trova questa pseudo fermata. Perché quando parliamo di fermata, beh, noi desidereremmo un minimo di fruibilità, di vivibilità, un minimo di sicurezza, cose che non ci sono assolutamente. Perché vedete qui, tutta la zona è invassa da erbacce che non vengono tagliate e rimosse da anni. Quindi il cittadino, la vecchietta, l'anziano, il giovane, chiunque egli sia, chi sta alla fermata dell'autobus qui, rischia veramente di essere travolto. Si vede costretto a restare, a stare sul ciglio della strada con il rischio che qualche macchina lo travolga e lo mandi all'altro mondo, transitando, passando dall'ospedale. Perché chiaramente è costretto a stare sul ciglio della strada. Mica può, come dire, entrare a pie pari nell'erbacce. Immaginate un po', mica io potrei entrare e per ragioni di sicurezza aspettare l'autobus tra le erbacce, tra le serpi, tra gli insetti e quant'altro. E allora, amministrazione comunale, signor sindaco, quando si decide a far tagliare questa erbaccia, è l'AMAT. L'AMAT cosa aspetta ad andare dal sindaco e, in maniera civile e democratica, per così dire in senso astratto, a tirargli le orecchie e dire sindaco, qui c'è una fermata dell'autobus. I cittadini mica possono stare sul ciglio della strada o i cittadini mica si possono gettare, buttare tra le erbacce. Non chiediamo niente. Ma così si amministra una città?